La mostra Radici di Josef Koudelka raccoglie un lavoro straordinario, un lavoro che è il frutto di 28 anni di osservazione, di viaggio, di sguardo. 28 anni in cui Josef Koudelka, grande fotografo nato nella Repubblica Ceca e ormai francese di adozione, ha deciso di girare il Mediterraneo a realizzare quella che secondo lui era l'immagine di ogni luogo. Ecco, il frutto di questo lavoro lo abbiamo ora al Museo dell'Arapacis di Roma. Le fotografie di Josef Koudelka, così grandi, così imponenti, sono organizzate per permettere al visitatore di realizzare una passeggiata, una grande passeggiata nei siti archeologici del nostro passato e del nostro presente, la ricerca proprio delle nostre radici. È come se in qualche modo il Museo dell'Arapacis diventasse un parco a tema. Ecco, il tema questa volta sono le nostre radici, la nostra storia, quello che noi vediamo del nostro passato e che fa parte ovviamente anche del nostro presente.